Io dico che bisogna uscire dall'Unione Europea, perché la conseguenza di tutto ciò è molto semplice, tu chiedevi Fabio qual è poi l'effetto tra noi e per esempio i tedeschi, molto semplice, te lo dico subito, così puoi tornare a parlare di Covid, 314 posti letto per ogni 100.000 abitanti, mentre la media europea sono 500 posti letto, sto parlando di terapia intensiva, sempre ogni 100.000 abitanti. Quindi questo è quello che è successo in Italia, ai tanti amanti dell'Europa, agli europeisti, questi sono i numeri che io sparo loro in faccia, quindi noi abbiamo 130.000 medici ospedalieri e in Germania se ne possono permettere 190.000, punto. Questo è il motivo per cui io non voglio restare in questa Unione Europea, è chiaro? Sì, è molto chiaro, ma è chiaro soprattutto il fatto che finché le persone non se ne rendono conto e finché non c'è un sentimento comune su questa cosa. C'è il divide e timpera, c'è il divide e timpera. Io ho parlato tante volte di Le Bon, ho parlato tante volte di documenti che sono stati l'origine del neoliberismo. Loro, cioè quelli che hanno il potere, che non sono i politici, che sono camerieri di queste persone, ma invece quelli della finanza, sanno molto bene usare gli strumenti di comunicazione. Il divide e timpera è efficace. Se di fronte a queste cose che noi abbiamo detto adesso, per esempio, i lavoratori dipendenti si mettono a dire, ah ma io lavoro molto di più e quindi, allora loro sono riusciti nel loro intento di creare le tifoserie, le guerre tra i poveri. Ma come hai detto tu, dopo che avranno tolto il lavoro agli albergatori, ai commercianti e via discorrendo e saranno arrivate le corporate, ecco che a quel punto arriverà anche nella pubblica amministrazione e da altre parti la possibilità di sostituirli. Io, il dottor Coppola che è commercialista, nonché finanzialista della mia scuola, lo sa, io ho detto anni fa, guardate che il commercialista come lo conosciamo è morto e quando uscì su Panorama quella roba io ricevette insulti da mezza Italia. Ma la verità, e qui lo chiedo a un commercialista, caro Giancarlo, ma è vero o non è vero quello che diceva l'ingegner Duranti poco fa? E cioè che un software potrebbe domani fare un bilancio, è vero o non è vero? Come un software potrebbe scrivere un articolo di giornale, è vero o non è vero? Ma parliamo della tua materia, i bilanci, la contabilità. Esiste già, non bisogna aspettare domani, esiste già. Ecco, quindi è solo una volontà politica. Mi confermi che tecnicamente esistono i software per fare contabilità e bilanci e quindi la professione di un dottore commercialista fra cinque anni, per me è molto prima, ma buttiamola lì, cinque anni. Ma secondo te queste cose tecnicamente sono possibili se lo vogliono fare e girare un bottone? Come hanno fatto la fattura elettronica? Possono fare anche queste robe o no? Ma certo, sono già possibili. Esiste già il software che fa queste cose qua. Va bene. Come sempre è vostro onore, io non ho altro da aggiungere. No, no, ma questo è un argomento Valerio e Giancarlo e Francesco che è qui vicino a me. Questi sono argomenti dei quali noi parliamo quotidianamente. È vero che un software potrà sostituire la base dei comportamenti, compreso il lavoro, ma non potrà mai sostituire l'uomo. L'uomo non potrà mai essere sostituito. Ma non venirlo a dire a me che faccio rubriche di economia umanistica, poi mi devi dire come sono andati i primi tre discorsi. Benissimo, sono andati molto bene, lo sai che sono andati benissimo. Dimmi se dobbiamo andare avanti. Certo che dobbiamo andare avanti. No, non lo so perché io non l'ho visto. Certo che dobbiamo andare avanti. Non amo rivedermi. Non possiamo lasciare le persone che ormai sono abituate a sentire queste belle cose, questi bei discorsi. Il punto è, perché non vorrei che passasse un messaggio errato, io non sto dicendo che il software sostituisce il commercialista, perché altrimenti non avrei fatto un'accademia italiana che si chiama Masterman che in questo momento è frequentata da oltre 100 commercialisti. Io sto dicendo, tra cui il dottor Coppola che è qua, per cui io sto dicendo un altro concetto, sto dicendo l'uomo è insostituibile, ma per uomo parlo di strategia e consulenza di strategia e parlo di cambio di paradigmi per cui dico attenzione, non facciamoci fottere dei software, perché invece la consulenza intellettuale, cognitiva, per esempio io parlo della mia materia, la pianificazione finanziaria, quella un software non la può fare. No, ma infatti, Valerio, scusami, infatti quello che io sto cercando di spiegare da stamattina, ma lo faremo anche nei prossimi giorni, è che chi deve stare attento oggi sono proprio quelle persone che oggi fanno invece il tifo per il chiusiamo, siamo tutti a casa, capito? Quelle persone che hanno lo stipendio assicurato a casa, ma che non fanno parte di quei gruppi di persone insostituibili. Gli insostituibili sono altri, voi siete tutti sostituibili e prima o poi vi sostituiranno. Non c'è nessuno insostituibile, questo è il messaggio che voglio dare come... Però attenzione, però attenzione, ci sono molti che, e vabbè, voglio dire, quello che prima stringeva i bulloni l'hanno sostituito da una macchina. No, 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 voglio dire un'altra cosa, la robotica è chiaro, ma voglio fare un altro ragionamento. Io sto parlando di strategia perché nessuno è insostituibile, siamo tecnicamente in una fase cosiddetta di risk on, vuol dire non esiste più sul mercato mondiale nulla che non sia rischio. In questo quadro strategico in cui tutto diventa rischio c'è stato nel XIX secolo, io dico la leva del lavoro sul capitale, tutti ricordano Marx, nel XX secolo c'è stata la leva del debito sul capitale, cioè il debito pubblico, tutte queste robe. In realtà tutti i commentatori, Fabio, sono fermi a 50 o 100 anni fa perché il problema del XXI secolo non sarà più il debito sul capitale o il lavoro sul capitale, Fabio, ma sarà il lavoro competitivo sul lavoro non competitivo, cioè il ragionamento che hai fatto tu. E a livello mondiale planetario il disegno di questi signori è tramite la finanza decidere chi è occupato e chi no, perché chi non è occupato, perché non ha cambiato mentalità in logica strategica, finirà a prendere il reddito di cittadinanza e avere la birra sul divano. E quello che mi fa ghiacciare il sangue nelle vene è che a tanti giovani è stato detto iscriviti a prendere il reddito di cittadinanza perché così avrai la corsia preferenziale nei centri per l'impiego. La verità, e se andate a vedere, è che non è aumentata l'occupazione giovanile e anzi adesso abbiamo una norma del ministro Brunetta che dice, sapete una roba, alle pubbliche amministrazioni si accede per titoli e non più per esami e per concorso. Siamo in chiusura. Capite il gioco. Ho finito. No, 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 ma infatti è quello che sta accadendo, Valerio, sì. Bene, ma la prossima settimana riprendiamo e ricominciamo da qui.